Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in Fipilì e in tutta la rete autostradale toscana. In A1 fino alle 6 del 12 aprile tratti chiusi per lavori tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma e Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Sulla Fipilì restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni per lavori in corso, possibili disagi per la viabilità. Sulla Firenze-Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Ancora sulla Firenze-Siena per lavori chiusa l'uscita San Donato verso Siena. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!